Raffael Toloi, che soddisfazione. L'Atalanta vince a San Siro 2 a 0 meritatamente, fa un bel passo in avanti in classifica, tanta soddisfazione e un bel Natale. Sì, è una soddisfazione molto grande, è un grande risultato oggi. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo giocato contro un avversario forte, difficile da vincere. La squadra ha giocato molto bene, ha creato delle opportunità, ha saputo soffrire nel momento di difficoltà. Quindi è un risultato molto importante, che ci dà ancora più fiducia per lavorare ancora di più. È vero, abbiamo Natale adesso, festeggiamo un po' e poi pensiamo alla prossima partita di campionato. Adesso sicuramente sarà un bel Natale, anche i tifosi non hanno mai smesso di incitarvi, di saltare e di farsi sentire. Sì, sì, i nostri tifosi sono spettacolari, sempre insieme a noi e questo è molto importante, come tutti dicono, è il decimo secondo uomo in campo. Atalanta che è in lizza in tutte e tre le competizioni, Europa League, Campionato e Team Cup. Che bella cosa, che bella soddisfazione. Insomma, questo è un grande gruppo che ha regalato e sta continuando a regalare grosse soddisfazioni. Sì, sì, questo è molto importante, era anche un obiettivo nostro e questo fa vedere quanto è forte tutto il gruppo, perché giocare tre competizioni è impossibile giocare solo con 12-13 giocatori, ma sì con tutti delle squadre. Tutti quelli che hanno entrato hanno fatto molto bene e questo è importante, fa vedere che le squadre sono molto forti e dobbiamo continuare, dobbiamo continuare a pensare partita per partita e giocare tutte le competizioni per vincere.